buongiorno amici buongiorno a tutti sono il mauro ma la tratta di mauro dalla panchina mauro dalla cascina come dico sempre il mauro che preferite perché mi sono questa mattina svegliato allora oggi è domenica mattina e per l'esattezza domenica 31 luglio questa sera so che sul canale degli orti di mauro ci sarà il video video che ho programmato se non mi ricordo esattamente ne sto facendo meno di rispetto prima comunque così anche in questo come potete vedere ogni tanto perché perché non recito quindi non ho bisogno tante volte di creare per forza dei contenuti o raccontare chissà che cosa per oggi mi sentivo così mi sono svegliato questa mattina avevo voglia di fare quattro chiacchiere con voi e con la telecamera e questo microfono che ho messo addosso perché poi si senta bene anche nel frattempo sono comunque sempre circondato anche se un po meno dai suoni dei canti bellissimi degli uccelli al mattino quando si svegliano anche loro ce ne sono un po meno in questa stagione perché si vede che ormai hanno fatto famiglia hanno fatto le loro copie e quindi cantano e attirano molto meno l'attenzione di tutti gli altri simili comunque diciamo che tutto sommato sto bene perché si sta bene in un ambiente così perché si sente subito dalle prime luci del mattino così anche di notte per esempio questa notte ha dovuto tenere addirittura porte e finestre chiuse perché gli ultimi temporali hanno rinfrescato veramente molto l'aria questo luogo è un luogo tanti di voi sanno già la storia della cascina tanti no è un luogo che ha conosciuto varie fasi probabilmente è stato un luogo così come dei racconti del povero mario era un bel luogo comunque anche di altre persone che ho sentito in paese parlando è un luogo che ha visto degli anni di splendore dove dove effettivamente mi raccontavano questa cosa fantastica dove questi boschi erano tutti dei pascoli e dove c'era questa cascina appunto qui in mezzo riuscivano queste mucche che aveva questo signore poi in stalla e pascolavano libere qui di fronte quindi io riesco di immaginare anche così in maniera abbastanza lontanamente diciamo che riesco di immaginare questo luogo così come me lo hanno raccontato effettivamente non oggi non ha intorno le stesse cose quindi per qualche ragione diceva sembrano dei racconti fantastici e in effetti per quel periodo lì credo che in questa cascina ci fosse stato un momento più più fiorente di questo luogo di questo posto perché fondamentalmente deve essere proprio veramente è stato bello anche pensare che queste persone vivevano qui perché chi ci hanno vissuto una famiglia che che da cui ricavava poi il cibo tutto quant'altro li poteva servire per l'autoconsumo per il sostentamento poi non so cosa può essere successo perché poi siamo andati incontro a questo che adesso stiamo definendo un progresso e uno sviluppo probabilmente per qualche ragione poi ci sono avvicinati ad altre cose piano piano questo qui sarà andato anche in declino questo luogo poi purtroppo ha subito anche una fase di declino di declino notevole fino arrivare come l'ho rilevato io la persona che poi l'aveva per ultima diciamo i vari passaggi che ci sono stati fino arrivare all'ultima persona che credo sia persona che ha fatto i danni più grossi qua dentro perché lasciando andare tutto in uno stato di abbandono così come quando l'ho rilevata io sul canale agli orti di mauro si trova addirittura il primo video c'è una playlist dedicata che a tutto ricomincia da qui perché effettivamente dicevo addirittura di famiglia auguri perché solo un pazzo poteva pensare una cosa del genere io sono stato anche aiutato in quella scelta nel senso che la mamma delle mie figlie rita che ringrazio sempre e anche in una delle mie figlie che quel giorno c'erano siamo venuti poi a vederla per la seconda volta ha visto dei potenziali in più che io non ero riuscito a vedere e quindi effettivamente da lì poi questa scelta grazie a questa raccolta fondi grassata poi fatta sull'altro canale dei miei follower si è arrivati poi ad avere i denari per acquistare questo bene e oggi essere qui essere qui a novembre sono due anni che sono qua dentro ho sempre detto che potevo fare di più così come potevo anche fare di meno nel senso che alla fine quello che è stato fatto qua per sviluppare per portare a nuova luce questo luogo è impegnativo ma nello stesso tempo mi richiede comunque certi sforzi anche economici perché purtroppo anche tenere tagliato fare il motosegano motosega quello che c'è insomma impegno è impegnativo tutto sommato devo dirvi una cosa cioè voglio raccontarvi questa cosa io non sempre qui dentro sto bene perché nello stesso momento diciamo che adesso mi sento di questa che questo luogo sta diventando un po la metafora della mia vita perché anch'io allo stesso modo di come vi sto raccontando la rinascita di questa di questo luogo di questa cascina mi sento nello stesso identico modo per cui anch'io così come un periodo ho avuto magari un momento fiorente poi così poi c'è stato un grosso declino parecchi problemi tanti di voi conoscono anche nei dettagli per cui poi da lì arrivare adesso a questa rinascita questa rinascita che per mia fortuna per per mia ricerca anche è arrivata con la scoperta di altri valori di altre cose perché a un certo punto nella mia vita probabilmente io mi sono sentito come se qui dentro avessi gli elementi e non tutti perché non ci sono tutti perché vi dico per esempio qui a livello energetico c'è stata anche tanta sofferenza però è vero che anche a livello energetico anche a livello personale mio anch'io ho avuto tanta sofferenza e poi questa si si trasforma si trasforma perché ci sono delle scoperte ci sono delle prese di coscienza di altre cose delle consapevolezze che piano piano vengono avanti poi vi racconto un episodio di qualche giorno fa e niente praticamente a quel punto non ti senti più da solo fondamentalmente capisci che intanto devi imparare a star bene con te stesso per me abbiamo già fatto un ragionamento legato alla fuga essere liberi non essere liberi io fondamentalmente mi ritengo libero probabilmente non sono libero al cento per cento perché seguendo ancora la mia personalità sono radicati diversi schemi diversi modi di vivere applicati alla vita diciamo materiale quella che ero io quello che era il mauro quando lavorava quando aveva conduceva una vita al di fuori di questo che poteva essere la realtà che mi sono poi dato anche a cercare indotto non indotta indotta anche da fattori esterni che mi hanno portato a prendere una decisione così radicale così drastica anche se possiamo guardare però fondamentalmente certe scelte si fanno anche perché sia un po pilotati un po spinti anche dal desiderio di farli perché ho detto già in altre occasioni io comunque volevo vivere in un contesto del genere fatto di essere già in una cascina così spartana così un po po arrangiata diciamo non mi pesa sì tante cose preferirei farle prima fare se sono legato anche a un discorso economico a quel punto i miei passaggi sono più lenti no infatti ho sempre detto che i miei progetti sono a breve a medio scusate mi sbaglio sempre a medio e lungo termine la metafora della mia vita la vedo qui la vedo qua tutti i giorni e quindi da un certo momento in avanti così come per questa cascina da un certo momento in avanti sono arrivato io ho avuto questo richiamo sono tornato a rivederla aiutato anche dal giudizio e dall'opinione appunto della mamma delle mie figlie che mi ha detto ma perché non hai visto i potenziali di quel posto probabilmente io non vedevo i potenziali di questo posto perché non avevo ancora scoperto i miei potenziali e anche quando l'ho presa io non avevo ancora questi potenziali non avevo ancora riscoperto queste cose per cui mi spiace per chi a volte pensa che magari tu sei di numeri oppure sei una che hai delle crisi mistiche piuttosto che sono delle piuttosto sono delle riscoperte mistiche delle cose legate ad altri valori ad altri concetti ad altre ad altre prese di coscienza come ho detto prima rispetto anche ad a tutt'altra cosa quindi riscoprire se stessi effettivamente a me è servito iniziare un cammino che è lunghissimo che non finisce mai quindi non c'è un inizio c'è c'è un inizio come nel mio caso ma non possiamo adesso immaginare di vedere già una fine anche perché è una crescita di questo tipo una crescita comunque a livello spirituale una crescita interiore richiede allenamento richiede pratica richiede attenzione continua e pratica continua quindi effettivamente non posso dirvi che io sono arrivato sarebbe assurdo però che almeno ci ho iniziato ecco questo che io in alcuni dei miei commenti quando si evincono certe cose che io cerco di far capire in un modo magari diverso da o meno diretto nello schierarmi piuttosto che lo faccio perché fondamentalmente anch'io sono in cammino e quindi in questo modo non ho assolutamente nessun pregiudizio nessuna non presuppongo niente cioè non mi viene la parola non voglio essere io sapientone di off vai così perché no io vi sto raccontando fondamentalmente quello che sta succedendo a me così che magari tanti di voi possono in questo modo riscoprirsi capire che magari anche a loro sta succedendo la stessa cosa però io vi dico che effettivamente all'inizio di questa mia di questa mia rinascita di questa mia riscoperta avevo delle difficoltà e ancora oggi ho delle difficoltà quando vado in contrasto quando una parte di me della mia vera personalità di quella che era la mia personalità del Mauro del Sauron per capirci quello di prima crea resistenza fa fatica ad accogliere certi passaggi certi cambiamenti così profondi però per esempio adesso arrivo al punto che vi dicevo prima per esempio io voglio raccontarvi una cosa mercoledì scorso sono andato per la questione del cane che avevo qua delle mie figlie poi ho fatto questo viaggio per andare a riportare questo cane poi a casa che poi in realtà era scappato il cane non ho portato sarebbe lungo per raccontarvelo tutto però in realtà io cosa ho fatto a un certo punto nel viaggio di ritorno poi alla sera dal mercoledì notte ho avuto dei problemi col motocaro perché sentivo che non girava il motore del motocaro sentivo comunque c'era qualcosa che non quadrava non ero sereno e lì vi dico proprio la pura verità a un certo punto mi sono poi fermato a fare benzina la una di notte quasi passata da poco e ho detto sentivo che c'era qualcosa che non quadrava a un certo punto ripartendo e appunto con questo problema ho detto signore aiutami ho bisogno di arrivare in cascina perché avevo comunque i miei due cani qua che mi aspettavano e dovevo poi ritrovare quello che era scappato anche tra le altre cose perché nel frattempo io il cane non ho portato a casa perché alla mattina dalla partenza il cane si era dileguato e quindi comunque per ragioni dovuto andare fare il mio viaggio le mie cose però avevo ancora un problema da risolvere e ho detto aiutami aiutami ho bisogno di arrivare in cascina e poi ho detto fammi accompagnare dai miei angeli custodi beh che ci crediate o meno io da quel momento lì in avanti ho avuto la sensazione di non essere più da solo ho fatto questo viaggio stupendo con mille problemi ma sempre con la consapevolezza di essere da soli di non essere da solo di non essere proprio da soli di essere accompagnato fin tanto che sono poi arrivato qui parcheggiato sono rientrato in cascina ho avuto questa sensazione di pace poi sono assicurato appunto che non fosse comunque rientrato l'altro con un certo punto dico domani mattina e non adesso che sono le due di notte ma domani mattina devo risolvere anche questo problema e allora lì per l'ennesima volta ho chiesto aiuto detto signora aiutami a trovare le forze per risolvere il problema non risolvi il problema aiutami a trovare le forze per risolvere il problema e così è stato la mattina mi sono alzato fresco lucido ho scandagliato il recinto ho visto dove era il buco che il cane da cui il cane era uscito ho da lì avuto la consapevolezza che il cane fosse definitivamente scappato il cane delle mie figlie non le mie due e a un certo punto dico va bene c'è un problema da risolvere mi era rimasto tra le altre cose ancora il problema del motocarro faccio faccio riesco ad avere le fotografie appunto di questo di questo di questo cane sparpaglio la voce qua in giro beh voi non ci crederete nel frattempo ho risolto il problema del motocarro è allo stesso momento che si è risolto il problema del motocarro mi è arrivata una telefonata di un vicino il quale aveva chiesto la mia autorizzazione per divulgare la foto su facebook e da lì a poco a di una decina di chilometri da qua il cane era stato ritrovato e quindi io potevo in quel modo partire andare col motocarro in quel caso funzionante a riprendere questo cane che poi è stato riportato a casa e si è risolto tutto bene bene da mercoledì notte a giovedì nel pomeriggio io non ho mai avuto per un minuto la sensazione di dovermi arrangiare da solo mi sono confrontato con me stesso avuto l'occasione di confrontarmi con me stesso più volte per quello che era la mia reazione ai problemi per quello che era il mio atteggiamento in quel momento e lì ho riscoperto un mauro di nuovo un mauro diverso questa cascina è la metafora della mia vita perché praticamente qui c'è stato un momento che poi è andato nel buio quello che si può definire un buio una fitta zona d'ombra un abisso di questo posto oggi ci sono ancora tante cose da fare c'è molto da fare però io ho questa sensazione questa percezione che in questo luogo a un certo punto ritornerà fiorente così come era luminoso e è bello perché il bello il bello è bello anche se ha energia e bello anche se c'è luce la luce giusta quando in uno dei miei video detto da questa cascina uscirà un fascio di luce che andrà nel colmo ad aiutare chiunque questo è quello che io e quello che io sento e quello che io vorrei che che fosse anche perché in qualche modo il nostro prensio crea la materia quindi a un certo punto noi io qui riuscirò in qualche modo a continuare a investire a investire energie e a coesistere con questo luogo fino al punto che sia io che la cascina che tutto quello che mi circonda i miei animali il mio gatto i miei cani appunto il mio orto riusciamo riusciremo appunto ad avere questa 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 sinergia questa energia che poi è disponibile a tutti quindi è per questo che io vi invito vi spingo a riscoprire voi stessi e soprattutto a pensare sempre positivo perché ci sono tante cose che apparentemente non capiamo non riusciamo semplicemente a decifrare mentre invece quando ti arrivano certi certi valori certe cose che ti arrivano comunque anche dall'esterno che arrivano anche dall'esterno capisci che c'è qualcosa di più c'è qualcosa di più grosso di più importante anche di cui occuparsi quindi restare sempre positivi restare sempre con un con un bel animo in ordine non si può dire cercare comunque di avere di avere questa energia positiva che ci aiuta sicuramente aiuta a noi stessi aiuta anche gli altri quindi nella condivisione nell'amore reciproco tra persone tra amici parenti anche ci sono tanti casi purtroppo dove anche lì le cose non vanno non voglio dilungarmi oltre spero di di essere arrivato con queste mie parole a voi e di avervi in qualche modo fatto capire qual è comunque anche questo cambiamento adesso abbiamo approfondito un po di più e vedete che spesso mi guardo la quarta te la riguardo la cascina guardo la cascina io la vedo trasformata vedo che si sta trasformando così come sento che io mi sto trasformando questo è veramente importante perché lo dico anche per voi non serve come ho detto in tanti casi scappare abbandonare tutto fare pensare che perché io fino a prima di avere questa scoperta non sentivo questo luogo in questo modo mi sono adesso mi sono dilungato però io prima di questa riscoperta mia interiore non sentivo neanche questo posto in questo modo quindi sentivo che non si stava trasformando sentivo che la poca energia che potevano darmi le piante che poteva darmi il bosco non era comunque sufficiente perché se prima non siamo bene noi stessi tutto quello qualsiasi posto dove noi possiamo andare anche quello che desiderate da sempre riuscite a comprarlo fare andarci non lo vivrete e non riuscirete a viverlo nello stesso nello stesso modo in cui lo vivereste se invece questa cosa parte da dentro infatti ti dicono tutti noi effettivamente se stai bene con te stesso poi stai bene anche con gli altri ci sono anche una serie di detti di varie cose che si dicono anche in questo in questo in questo ambiente io vi dico che veramente qua oggi mi sento così mi sento così e oggi questa mattina volevo dirvi questa cosa ho fatto questo video per raccontarvi questa cosa perché di qui a poco poi sposto i cavalletti faccio il video dell'orto devo fare una cosa ancora per l'altro canale mi sento positivo propositivo positivo appunto nel creare altre cose oggi domenica sarò con i miei cani ed è un giorno per me un giorno come un altro magari no perché è comunque un giorno speciale ogni giorno che ci alziamo una delle altre cose che faccio quando mi alzo e vedo la luce dico grazie signore perché ci sono anche oggi dammi la forza di di affrontare questa questa giornata a livello mentale se noi ci alziamo e pensiamo oh non ce la posso fare che stanchezza la nostra mente il nostro corpo troverà comunque scuse troverà scappatoie mentre invece se noi ci svegliamo ci abbiamo un giusto atteggiamento ci vogliamo bene diciamo fammi vedere cosa posso fare di buono oggi di bello oggi per me e per questo posto così per quello che per gli altri in quel caso lì la nostra mente trova soluzioni quindi perché no io alla mattina adesso non mi vergogno di dirvelo mi alzo guardo la luce dico grazie signora perché ci sono dammi la forza di affrontare ancora questa giornata e se ci sono dei problemi dammi anche solo la forza per capire come risolverli per adesso direi che basta così vi ho tenuto compagnia spero fino a questo momento grazie se avete seguito il video io adesso appunto inizio la mia vita in cascina come si vede sempre sull'altro canale la vita in cascina continua la vita di mauro dalla metafora di questa cascina della mia vita di questo insieme di cose che si sta creando un tutt'uno continua perché è una crescita continua un cambiamento continuo siamo in continuo cambiamento prendiamo quello che ci viene tutti i giorni viviamo nel presente e avanti tutta dico sempre anche sull'altro canale perché sono comunque sempre io che in alcuni casi mi smezzo per fare delle tematiche su questo e altre su quell'altro per cui se volete andare a vedere chi non conosce si chiama gli orti di mauro e viceversa appunto chi è già qua può andare di là che già di là che ha visto magari può essere già anche iscritto qui io vi auguro una buona giornata una buona domenica a tutti vi saluto vi bacio vi abbraccio da me a mauro degli orti di mauro mauro della panchina mauro della cascina adesso ciao a tutti grazie